Il personale della squadra investigativa del commissariato della Polizia di Stato di Battipaglia ha tratto in arresto un 53enne pluripregiudicato, resosi responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente di vario genere, ai fini della cessione al dettaglio. Il controllo degli agenti all'interno della centralissima villa comunale, dove hanno trovato in possesso dell'uomo la sostanza stupefacente di 11 grambi, pronta per essere venduta ai vari assuntori, oltre a una somma di denaro ritenuto il provento dell'attività illecita. Il 53enne, con precedenti specifici, veniva dichiarato in arresto e dopo le formalità di diritto collocato in regime degli arresti domiciliari presso la sua abitazione in attesa della successiva convalida presa il Tribunale di Salerno.